10 da ora, minuti, partiamo non puoi fare senza vero, non puoi fare senza vero, non puoi fare senza vero non puoi fare senza vero, non puoi fare senza vero non puoi fare senza vero non puoi fare senza vero Nooo! Guarda! Poi una giocciera fatta bene, ma sta fuori e sta vicino, bella! E' un po' è morto! C'è salte! E' un po' è morto! 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 Ok, con la sentienza Poi venite alzate! Nooo! Aprile il po' ... ... ... ... Grazie. 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 Buona testa. Buona testa. È normale. Non la sbracciare di schiena. La porti con la spalla. La porti con la spalla. La porti con la spalla. Ma la porti con la spalla. Va più forte come parte. E' grande. E' grande. E' grande la porti con la spalla. E' grande. Si può fare. No, questo è passivo. non muovi le gambe è il motivo per cui difende gli attacchi fortani e falci e per i punti no basse le gambe se ne vedete bene e soltate il possibile per difende la terapia a 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